ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da vivi centro network direttore mario bollono guardia di finanza lodi operazione biasta corruzione e turbativa d'asta eseguite tre misure cautelari personali e sequestri per cento 5 mila euro sui 13 notti peccato che uno non ha sbagliato l'assegno uno che ha avuto fuori testa sua poi c'è una lampleina tu pensi che io non foraggio del stravanca, paranzano, 39 appartamenti, custode, che seguo la procedura quelli che vengono con noi li conosciamo noi, quelli che vengono con te, danni il nominativo nome con noi, se non costa niente termina così il nostro momento di informazione, chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivi centro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive